Ciao Fede! Ciao Steph! Nuova challenge! No Steph, no, ciao! Sì sì sì, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vi vederci! Ci vediamo in un altro video, Steph! Fede è davvero bella! È davvero davvero bella! Vuoi che te la spiego? No! Allora, non è colpa mia, YouTube internazionale, Forn, te lo sai che se ne inventano sempre una dopo l'altra, questa è una figata! Tu scendi, apri un ammo box, quindi le classiche scatoline dove trovi le munizioni, e le munizioni che trovi nella prima ammo box determinano le armi che puoi utilizzare in questo game! Perché? Esempio, tu trovi le munizioni di M16 e di fucile a pompa, in tutto il game potrai utilizzare soltanto gli M16 e i fucile a pompa, trovi soltanto le munizioni delle pistole, potrai utilizzare soltanto le pistole, l'SMG e il minigun, tutto chiaro? Sì! Non farmi le molti contristi, dai Fede su, è carina come sfida! Steph, dai lo sai, cioè se tu apri solo una cassetta di munizioni, ti possono capitare anche monoproiettili, tipo fucile da cecchino e che fai? O lanciare a Z e basta, che fai? Lo so, fatti lì! Cioè dove te lo togli fuori poi lanciare a Z? Lì è il punto rischioso, se ti capita solo un tipo di munizioni e non due, e può capitare spesso, se ti capita l'arma sbagliata sono guai, ma per quello è una bella sfida, altrimenti non lo sarebbe. Un'altra cosa importante è che noi dobbiamo iniziare proprio a prendere un ammo box, quindi non possiamo scendere vicini a qualcun altro, altrimenti tu stai prendendo un ammo box, lui sta prendendo un'arma e ti distrugge, quindi ci tocca partire anche un pochettino safe e poi dominare piano piano il game. Ovviamente. Di conseguenza ti direi un acri? Abbastanza distante. O andiamo a rischi i reels? Sì, perché no? O andiamo a Wailing Woods? Basta, Stefano. Andiamo a Wailing, ci sono un sacco di chest e ci sono i funghetti da prendere che ci danno un botto di shield. Ok. Non sono mai sceso un game lì, proprio per lo start, da quando hanno messo i funghi. No, neanch'io, neanch'io. Quindi secondo me ci sta. Allora, come la vedi? Cosa, secondo te che munizioni ti capitano? Guarda, l'ideale sarebbero almeno il fucile d'assalto. E il pompa, quello è ovvio. Però vabbè, anche un'arma secondaria mi andrebbe bene, però il fucile d'assalto lo reputo davvero essenziale. E quindi siamo d'accordo. Però con la fortuna che ho probabilmente apro e mi capitano due razzi, quindi... Beh, io sono preoccupato su tipo cecchino e fucile a pompa, sarebbe già abbastanza problematico. Fattibile, ma problematico. Insomma, possono capitare diverse combo che non mi stanno bene. Diciamo che accetterei comunque le munizioni della pistola abbastanza semplicemente. Allora, qui dentro so che ci sono quante cassette, uno o due? Allora, qua. Due, una testa, vai tu. Vado io, eh. No! Perché? Io non so bene. Quindi, raga, io posso prendere tutto ciò che ha a che fare con SMG, pistole, insomma, munizioni piccole, e tutto quello che ha a che fare con gli M16. Mentre Fere, pistole piccole e cecchino. Lo sapevo. Cioè, l'ho anche chiamato, perché lo sapevo che tanto avrei avuto sfortuna. Ma figurati se io una volta nella mia vita ho fortuna a te. Poverina. Poverina. Continua a trovare poi solo munizioni piccole. Milcechino, milcechino. Grazie, Stef. Pure brutta. Eh, sei contenta? Felicissima, che sarà la mia arma primaria. Ma ci sono ceste oggi in questo posto? Non lo so, di solito ce ne sono tante. Lo so. Quindi è strano che non ci sono. Però ci sono un sacco di armi a terra, ma pochissime ceste al momento. Eccone un'altra, perfetto. Io ne ho trovato, ma buona. Eh, vabbè. SMG viola, Fere. Ok, bravo. Quello serve anche a te, perché ce l'hai anche tu, è l'unica cosa che abbiamo in comune. No. Sì. No, non lo voglio. Fere, non essere tristo, dai che ce la facciamo. Dai che vinciamo il game. Io col cecchino, Stef, davvero. Sì. Sì, anche di farcela con io col cecchino. Sì. Ok. We can do this. Sì, sì. Farei anche a scambio, ma... Oh, Stef, non ho trovato neanche una singola cesta. Se vuoi fare a scambio a me va bene. No, 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 no. Ognuno, come si dice, deve subirsi la sua sfortuna. Sicura? Totalmente. Eh, beh, se no che ci allengessero. Vabbè, comunque uno dei due... Ui, fonghetti, Stef. Si deve subire la sfortuna, quindi andava comunque bene. Però, ok, dai. Buona tortura, insomma. No, beh, secondo me la challenge è divertente se tu giochi con quello che ti capita, senza cambiare, senza agevolarti. Qui c'è una cesta, ti prego fammi trovare un'arma che abbia senso di esistere. Ok, considera che... Ma ovviamente, chi è trovato? Un player. Ma tu, che ci faceva lì? Non lo so, sto solo che... Arrivo, Stef. Con il mio cecchino, cioè arrivo, mi metto da lontano e provo... Oh, pazzo! Ma ti vuoi calmare nella tua vita? L'hai buttato giù? Mh? Hai buttato giù, finito? Sì, c'è un fucile da caccia. Scillini. Allora, mi prendo anche il fucile da caccia, dai. Ma ditemi voi sto pazzo. Boh. Vabbè, che ci faccio... Ah, io questo lo posso prendere, vero? Allora, come me la gestisco? Ti butto questo, che lo può prendere Fere? È arrivato l'amico! Come è arrivato l'amico? C'era l'amico. Stavo per cecchinarlo, però, Stef. Se tu non me l'avessi ucciso in quel momento, avrei buttato giù. Vabbè, scusa, eh. Allora, questa la voglio. Questo lo voglio. Però devo un attimo... Ok. ...assistirmi le armi e mi bevo un attimo su slurp. Un attimo, tieni, tieni, tieni! Ormai l'ho bevuto. Tiratelo veloce! Ormai l'ho fatta. Veloce! Ok. Ormai mi stai mettendo ansia. Ok, allora. Ta ta ta. Raga, questo è il mio loadout. Non mi è andata male. Questi qua mi hanno portato quello che mi serviva, comunque. Perfetto, ricarichiamo anche quest'arma. Ho molte poche munizioni. Ok. E ci dobbiamo dare le munizioni a vicenda. Quindi, tieni cechino da mia M16. Perché quelle piccole invece ce ne abbiamo entrambi. M16 non ne ho tantissime, però tieni. Non è che l'ho tanto così tanto. Ok, allora. Io continuo a riprendere funghi, dato che mi hanno fatto scendere un pochettino. Bisogna riprendere anche legna, dato che stavo iniziando a farmarla. E quello lì ha iniziato a spararmi. Bene, però, eh. Questi sono i miei... E fermano pure a me. Ho capito, ma vai da un'altra parte a prendere funghi. Ma... Questi sono i miei funghi. Ah, comunque un trampolino. Qua dentro la zona? Uh, ottimo. Sì, abbiamo avuto parecchia fortuna. Ci facciamo un botto di legna, bello. Esatto, pensavo di approfittarne anche io. Trampolino comunque ottimo. Sì. E comunque... Ti ho sentito. Due kill. Non male, dai. Ok, erano scarsi, eh. Ma proprio... Beh, ci sta. Proprio poverini. Però... Due kill ce li siamo fatti. Ti sto contro quelli forti, quello sarà il problema. Già, però noi stiamo nei boschi. Tipo, ci facciamo... A mangiare funghetti. ...dove ti mimetizzi e cose così. Facciamo in un certo modo. Eh, avrei dovuto mettere una skin un po' più mimetica, in effetti. Per mimetizzarmi bene puoi sniperare, capito? Ah, beh, ma cosa ne sapevi che ti capitava il cecchino? No, lo sapevo già. Lo sapevi? Sì, sapevi che era destino. Lo sapevo. Player, ho bisogno di kill, ho bisogno di munizioni. Sia di MS-16 che di SMG, por favor. Dove siete? Anch'io sono davvero... Cioè, vabbè, per i cecchini mi vanno pure bene 30 colpi, però... Lo so, è il resto il problema. 70 della mitraglietta, contando che ho solo quella... Anche io ho 83. Insomma, non il top. Però prima o poi qualcuno lo troviamo, immagino. Allora, evitiamo di passare al centro-centro, che lo odio. Andiamo verso Tomato Town. E qualcuno... Spero ci sarà. Spero. Eccolo, lo vedo, lo vedo. Ovest 285 sotto quella struttura. Ora sta correndo i medagliari. Riesci a sparare? Oh, l'ho preso, Steph! L'ho preso! Uno è praticamente morto, l'ho distrutto. L'ho preso! Col cecchino. Ok, perfetto. Non chiedermi come ho fatto. Allora, io mi sto già avvicinando. Ok, ok. Io non è che mi posso avvicinare tanto, eh. Eh... Cioè, cerco di stare vicino. Beh, la Desert. È buona, fidati che ci riesci. Col cecchino a ripetizione o me la cavo pure? E infatti l'ho colpito. Non so perché mi piace particolarmente quest'arma. Con la Desert io non me la cavo tanto. Quindi è molto difficile. Vabbè, ci provo, eh. Mi è vicino. Dove sono? Ah, sono entrati in casa. Ok. Ok, ancora peggio. Sì, perché così sono obbligato su queste armi che io non amo. Da dove? Sparano, sparano, sparano. Sembra da 2,40. Dalla collina? Sì. No, mi chiuso dentro casa, maledetto. Allora, devo riuscire a vedere in qualche modo. Mi spacco il tetto e mi ricostruisco. Ok, rumori, perché credo che qualcuno è dentro casa. Eh sì, penso di sì. Guarda quelli là. Lì stanno fightando. Ok. Non sei tu che rompi, vero? No. Ok. C'è qualcuno dentro casa. Sì. Comunque, quelli poi in mezzo. Dove sono? Sotto, sotto, sembra. Quelli fightano, cioè, come se non ci fossero domani. Ma che cavolo sono quelli dentro casa? È qua, sta. Steph, 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 Steph. A terra, l'ho buttato giù. L'ho preso alle spalle dalla finestra. Hai ucciso anche l'altro? Sì. Ok, ottimo. C'è l'altro team adesso. L'hai lootato il tipo? Eh, no. Ce la fai, dov'è? Era qua. Era nel bagnetto, sì. Ok, sto lootando io. Poi nel caso ti do tutto quello che ti serve. Arriva, 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 arriva. L'ho preso proprio alle spalle, guarda. Non so come sono riuscita a farla. Che poi, tecnicamente, anche la pistola silenziata mi può riprendere. Però dai, mi tengo la mitraglietta. Adesso mancano quelli. Sì, ho ammazzato uno che era già a terra. Ok. Andiamo? Stanno fightando. Ancora? Sì. Ma quanta gente c'è? Non lo voglio neanche sapere quanti sono. Quanta gente c'è? Che casino. Aspetta un attimo. Io ho delle granate. Sei tu? No. C'è qualcuno sotto. Io sto pensando a tirare delle granate a quelli là. Abbiamo uno sotto di noi. Sto provando a tirare un medikit. C'è gente che spara da lontano. Uno sta sotto di noi. Ok. Eh, lo so. Non è una bella posizione. Ci dovremmo spostare, Steph. Io ho il trampolino, ma stai vicino? Cioè... Sì, sì. Sono fiancato a me. Lo uso? Sì. No, andiamocene. Ok, vieni. Non abbiamo le armi per fare quello che vogliamo qua, purtroppo. Secondo me è meglio spostarci, riposizionarci e vedere se riusciamo a prenderli. Però secondo me... Infatti cercano ancora di prendermi, oltretutto. Qua secondo me c'è gente, però. Guarda, cercano ancora di sniperare. Senti? Sì. Sembra verso 255. Non capisco. Sto tiltando, perché è tipo da 4 minuti di fila che non abbiamo una sosta di player. E c'è. Eccone uno. Questa è da dietro, tipo. Sì, sì, sì. Ok, però è di fronte a noi. No! Ci stanno sandwichando malamente. Ah, è troppo di... Perché troviamo sempre tutti questi player così? Allora, costruisco. Basta, costruisco. Ok. Mi copro dietro, perché quelli continuano a sniperare. E vediamo cosa riusciamo a fare con questo qua davanti. Sono due. Quasi preso. Cavolo. Eh, difficile, staffa. Lo so. Lo so, la situazione è grave. Niente? Ah! No, non stanno più sbucando. Da quando ho provato a sniperare sono nascosti. Eccoli. Oh, l'ho andato un bel po' di itio, eh. Ok. Però mi preoccupa anche l'altro team. Non sappiamo mai dove sono. Davvero difficile. Non poter rompere le loro costruzioni. Non poterli neanche lasciare. Eri tu, sì? Sì, sì. Io ci provo, ci provo. Quello è l'importante. C'è la caccia. Però c'è quell'albero. L'albero. Io sto pensando di lasciarli. Dici. Eh. No, chi era però? Ma che ne so, è pieno di player. Da dove spara? Dove è quell'altro team che spara? Ma che ne so, sembrano sempre dietro comunque. Tipo a lago? Eh, non lo so. Sembrerebbe. Sì. Aspettiamo ancora 30 secondi. Se non vediamo quelli di lago, lasciamo questi. Ok? Ce le cerchiamo anche noi gamer. Eh, oh, che cavolo ci possiamo fare. Io per di più non ho mai colpi. Ok, stanno continuando a salire di altezza. Ma che noia sono questi? Pure io, perché altrimenti non li vedo. La zona li sta un po' estremizzando a loro. Si sentiranno un po' chiusi. Quasi preso, l'ho sfiorato, guarda. Esci di nuovo fuori. Fuscita da caccia è meglio a queste distanze. È un po' più... È un po' più... È un po' più... Sì, vedi, vedi, vedi. C'è gente anche da quella parte. Sì, hanno provato a check in armi. Continuano ad andare in alto, in alto, in alto, in alto, in alto. Cioè, che fanno? Continuano a costruire? Ok. Quanto vorrei che tu avessi il cecchino, Steffi, in sto momento. Non dirlo a me. Quello continua a provare a sniperare. Occhio. Giusto per dare un po' di fastidio. Se non rimane ferma a sniperarmi. Basta, vado. Aia. Niente. L'ho fatto cadere. Ma non è morto, però. Come ha fatto a non morire? Non lo so, io sono morto, lui no, di caduta. Cioè, lui era più in alto di te. Infatti, mi sa che mi ha fatto cadere anche a me e tu, non lo so. No, non t'ho fatto cadere a te. Ho finito le munizioni. Quindi non è altro? No. Allora è finita per noi. No, ho finito le munizioni della mitragliezza. Secondo me sono bassi entrambi. È appunto, quindi mi lì non puoi fettare. Fammi sognare. Sotto di te, sotto di te. Eh, non ce la faccio, Stef. Non ho nulla da sotto. Di desert, vai di desert. Quello che riesci, riesci. Eh, vabbè. Ti ha preso la colpa nuova. Certo. Che fastidio, che fastidio. Ce l'avevo di fronte, aveva billato malissimo e ho sparato un po' di SMG. No, certo, con altri armi sarebbero morti tutta la vita. Cioè, l'hanno giocato malissimo. Comunque, un po' di chili abbiamo fatte, posizione non male. Cioè, secondo me non è stata malissima. Dai, ce la siamo giocata abbastanza bene. Abbastanza bene. In ogni caso, ci fermiamo così. Qua sotto altri video. Iscrivetevi al canale se avete ancora fatto. Cliccate la campanellina e proveremo a fare altre sfide. Magari tutte queste che stiamo provando in video le riproveremo anche a fare in live per riuscire a vincere. Perché secondo me anche questa comunque è vincibilissima. Bisogna avere leggermente più fortuna. Già pompa e... Ed M16, secondo me... La vinci tranquillamente. ...questo fight si vinceva. Poi magari il game non lo so, ma questo fight si vinceva. E comunque, ci fermiamo così. Ciao, ciao! Ciao!